nuovamente agli ordini dello starter i cavalli del premio francia seconda tris prova gentlemen sul doppio chilometro allo start bkdl titano m bladi mary benop in prima fila simon foto sm in seconda al secondo nastro volton jet zack wise al tsunami g font solo cassi in prima fila alessandro bari amore stecca in seconda fila secondo segnale che è convalidato parte molto bene dalla seconda fila era da solo simon foto sm va a condurre c'è stato l'errore per solo caff si è avviato con prudenza amore stecca adesso sbaglia anche bkdl mentre avanza deciso e passa a condurre bladi mary superando simon foto sm dal secondo nastro velocissimo zack wise il ritmo blando consente ai penalizzati di recuperare in fretta vittima di errore anche ben o p primi 600 metri in un comodo 46 e 8 per bladi mary nei confronti di zack wise si protende in terza ruota ma sbaglia amore stecca anticipato da alessandro bar che offre la schiena tsunami g font e quest'ultimo può anche però parcheggiare terzo in corda a precedere simon foto sm titano m volton jet comanda bladi mary c'è accelerazione davanti alle tribune il chilometro infatti va via in 1 16 8 con bladi mary a precedere zack wise alessandro bar all'esterno tsunami g font che si sposta nuovamente nella scena di quest'ultimo ancora una frazione sollecita in 15 con bladi mary che replica ad alessandro bar poi zack wise che ha in fuori tsunami g font più indietro gli altri capeggiati ora da volton jet che ha guadagnato la quinta posizione e cerca di avvicinare i primi quattro bladi mary alessandro bar sempre in lotta zack wise in corda ma senza spazio tsunami g font nella scia di alessandro bar che ora accenna anche alla terza ruota poi volton jet bladi mary alessandro bar tsunami g font su di una linea ai 300 finali zack wise lungo la corda ma senza spazio che ora si sposta all'esterno poi volton jet alessandro bar e bladi mary sempre alle prese zack wise lo scatto di zack wise che in poche battute sta prendendo il sopravvento all'esterno zack wise che sta passando di slancio su bladi mary che reagisce ancora ad alessandro bar sul palo e netto zack wise e bladi mary resiste ad alessandro bar per il posto d'onore 8 3 12 l'arrivo ufficioso e la combinazione vincente di questa seconda tris 2 32 e 2 per gli ultimi 2000 metri sul mio cronometro media intorno all'1 e 16 ma per lo start invece zack wise partiva a 20 metri ha sfruttato la sua grande agilità fra i nastri per andare presto in seconda posizione e poi ha spostato all'esterno sul finire dell'ultima curva per venire a dominare i battaglianti bladi mary e alessandro bar non ha perseverato il netto favorito tsunami gifonte che però non era partito bene aveva dovuto recuperare vittoria netto e zack wise antonio vitiello i colori del signor vincenzo costantino bladi mary resiste a alessandro bar per il posto d'onore e poi volton jet al quarto ma i numeri della tris sono 8 3 12 per la ottava di capanella è tutto lì nello studio bauอ取ta l'alli studio itato 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 Grazie a tutti